Tante ancora le criticità legate ai rifiuti a Torre del Greco. Ai nostri microfoni l'assessore Cinzia Mirabella, che spiega anche la nuova nomina nella dirigenza NU. C'è stato questo cambio di dirigenza, ma ci tengo a precisare che c'è una massima stima per la dottoressa Sacco, come donna, come dirigente. Si è inteso soltanto alleggerire e ridistribuire i carichi di lavoro, al fine di rendere migliore un servizio, che in questi tempi purtroppo sta avendo una serie di problemi, soprattutto per il diserbamento, soprattutto per alcune zone della città dove ancora assistiamo a un prelievo non regolare del porta a porta. Proprio con le nostre telecamere in questi giorni abbiamo evidenziato alcune criticità. Ad esempio la prima è quella degli ingombranti, che non vengono raccolti e depositati in qualunque luogo della città. Diciamo che c'è anche un abuso, nel senso che da una parte c'è una non regolarità nel prelievo degli ingombranti, così come stabilito da contratto. Dall'altra parte abbiamo anche assistito però ad ingombranti lasciati in zone isolate della città e tante volte anche messi con numeri non realmente che corrispondono a quelle che sono le chiamate che si fanno normalmente con il numero verde e con la mail indirizzata direttamente alla buttole. Diciamo che i problemi sono duplici e possono essere risolti innanzitutto con il sito che si trova a Santissima Trinità, dove possono essere portati gli ingombranti e dove molte volte le persone per pigrizia, per non conoscenza preferiscono non depositare lì e quindi ci troviamo molte volte degli ingombranti lasciati in zone della città a volte anche con numeri, ripeto, che non esistono. Bisogna migliorare il servizio sul controllo, sulla vigilanza, su più siti da aprire per poter lasciare ingombranti perché comunque ricordo che la città è coperta soltanto nella zona centro, mentre la periferia ancora non ha una zona dove poter conferire ingombranti, quindi questa situazione deve risolversi. Altra criticità è quella dei sacchetti depositati illegalmente e non raccolti, ad esempio abbiamo il caso ogni lunedì mattina. Sono cumuli storici, nel senso che oramai le persone sono abituate a depositare in luoghi e non vogliono depositare con il porta a porta. Il problema dell'ANU è un problema difficile, nel senso che molte persone non vogliono avere fuori casa i propri rifiuti. Deve cambiare la mentalità perché se ognuno di noi ha fuori la propria porta i propri rifiuti ovviamente si evita il cumulo che si forma in zone critiche della città. Però devo anche dire che c'è ancora la non cultura differenziata e non c'è ancora la cultura del sacchetto nero che ancora vedo per strada. La busta nera non permette all'operatore di capire all'interno cosa c'è. Se oggi si prende carta e non si vede all'interno che c'è carta, o se si prende plastica e non si vede che c'è plastica, l'operatore non è autorizzato ad aprire il rifiuto. E quindi queste buste rimangono abbandonate per strada. Quindi invito ancora una volta la cittadinanza ad utilizzare le buste appunto trasparenti che possono permettere di capire all'interno che cosa ci sia. Altro punto critico è quello dell'erbaccio in città. Sembra mancare quasi completamente l'opera di disturbamento. No, è proprio manca. C'era un cronoprogramma che andava rispettato dalla ditta Butol che purtroppo non sta rispettando. Vengono applicate ogni giorno delle penali per il mancato conferimento del lavoro. Quindi stiamo procedendo ovviamente per quelle che sono le nostre possibilità perché è inconcepibile pensare che c'è un cronoprogramma da rispettare delle strade che andavano diserbate e che vengono lasciate dall'oggi al domani così in uno stato ovviamente di abbandono. Al netto delle varie critiche, quali sono gli interventi che invece si stanno compiendo per migliorare la situazione? Stiamo intervenendo su questi cumuli storici e cronici con l'intervento della Polizia Municipale e con l'intervento dell'ufficio e con l'utilizzo anche di telecamere che in questi giorni stiamo montando e abbiamo già montato. Dei risultati li abbiamo avuti con alcune zone già dove abbiamo impegnato il personale della Polizia Municipale e il personale dell'ufficio NU che sono andati proprio fisicamente in queste stradine, in queste anche piccole piazzette dove c'erano dei cumuli riconducibili a delle famiglie siamo andati lì proprio ad educare, a spiegare, a volte anche a multare abbiamo già una serie di persone che sono state identificate per numero di targa ma anche per riconoscimento in quanto abitanti del luogo quindi abbiamo già purtroppo delle prime sanzioni e continueranno queste sanzioni perché ovviamente chi sbaglia deve pagare noi su questo siamo sempre stati molto duri non faremo un passo indietro perché non è corretto perché chi differenzia deve essere tutelato chi paga ovviamente una tassa della NU così alta deve essere tutelato ed è inconcepibile un disservizio abbiamo iniziato con via Cappello Refici abbiamo eliminato un cumulo storico e abbiamo proseguito con via Nuova Trecase in questa settimana stiamo affrontando i cumuli che ci sono in primo e secondo Vico Abolito Monte abbiamo anche però devo dire lì con uno scarso successo affrontato Vico Tortora sarebbe sulla Nazionale dove c'è un cumulo continuo di ingombranti che purtroppo non riusciamo a debellare nonostante ci sia stato un continuo controllo della Polizia Municipale nei prossimi giorni anche lì metteremo delle telecamere che sono arrivati questa settimana quindi speriamo che con l'utilizzo di tutte queste forze messe in campo di poter risolvere il problema